Ben tornati a Paladesio dove stiamo per assistere alla partitissima della decima giornata di ritorno al derby tutto lombardo fra la Power Volley RB Milano e il vero Volley Monza. Partitissima che come ogni derby conta più della classifica per il morale, per la rivalità, per tutto. Con Jovovici al servizio e che il primo tempo perde Togni, ottimo Giorgio a girare verso il posto 1 questa 7. Se lo parla che stava per carambolare dopo il tocco sul nastro, apertura perfetta di Jovovici per Bott che si improvvisa opposto attaccando da posto 1. Vinicius al servizio. Forza Vinicius e regala con questo errore il primo set al vero Volley Monza. Quang, Juveres, posto 1 per Benz. Questa volta cerca di trovare le mani della coppia Galliani-Gonzalez. Quang, questa volta è Milano che sull'errore della battuta avversaria conquista il secondo parziale. Botto, forza. Ancora Benz, cercato la matra che fa subito dimenticare il muro precedente. Botto di Goetze, ci giocheremo il secondo. Escezione in pedaleggio di Veres, palla in posto 4. Punto di attacco vincente di Milan Benz che vale di 25-19 in questo terzo parziale. Quindi Milano che si porta a condurre per 2-7-1. Verso 10 che tiene bene, Mattela per la pipe di Veres, ben coperto dai Pandis. Tiberti spinge tantissimo la palla su Botin. Non è sicuramente scomodo e quindi primo match ball per Milano che si giocherà a Valsecchi. Tutta in piedi. Stemi Bonetti. Tiberti che passa giustamente da Padura Diaz. Come era facile aspettarsi. Lace di Goetze su Peter Veres. Lugolo a servizio. Veres in palleggio, Mattela per il primo tempo di Patriarca. Coperto in qualche modo Tiberti, sicuramente da Padura Diaz e così è. E il punto ancora di Padura Diaz, inarrestabile in questo quarto parziale. Annullato anche il secondo match ball e il secondo time out chiamato da Maranesi. Ancora verso Veres. Patriarca per Vinicius. È incredibile. Terzo match ball annullato da Padura Diaz, questa volta con un muro. Quindi set ball per Monza. Ancora Veres. È l'errore. L'errore di Veres. Incredibile. Però possiamo assolutamente dire che set è meritato da parte di Monza. Difficoltà per la recensione di Milano. La palla è piazzata di Benze. Quindi free ball ancora per Milano. Mattela ancora da Benze. In posto quattro. E ancora un muro di Padura Diaz che si lascia andare. Un paio punticini e poi chissà che possiamo fare noi il break che ha fatto prima Monza. E' difficile perché il money out di Bolting vale il primo match ball per Veres vale Monza. Benze. Al salto. E l'errore diretto regala secondo tentativo la partita a Veravoli Monza che meritatamente possiamo dire dopo aver conquistato aver vinto la battaglia nel 4-7 si aggiudica anche la guerra e quindi Monza che vince 3-2. Grazie. 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 Grazie.